Buongiorno! 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 Come state? Tra due minuti andiamo a portarci il cappuccino e poi ce lo porti. È tutto video! Buongiorno! Mi chiamo Emanuele Vicinanza e lavoro per Deus Ex Machina in Italia. Mi chiamo Alessandro Rossi e lavoro per Deus Ex Machina in Italia. Questa moto è potente, è moderna, ma ha molte cose che ci ricordano del passato. E questo è qualcosa che mi piace molto. Mi piace molto di questa moto, il tank, che è moderno e caro. E il ferro, che è molto particolare e unico. Io vorrei dire che quando stavamo guardando il target del nostro speciale, ci siamo immediatamente arrivati alla fine idea, alla fine perfetta resistenza di questa moto. Se qualcuno ride questa moto, è usata sicuramente, a full gas, non compromiso come la moto, e solo attenzione. La mia moglieva è sempre stato un po' per la prima volta, in cui abbiamo lavorato con Yamaha e è stato un grande piacere. Il mondo che può definire questo bike è forte, è potente, è unico, perché non c'è nulla simile, e è il bike che vogliamo.